Si è spostata a Palermo la vicenda relativa all'ampliamento dell'impianto di trattamento rifiuti speciali per i colosi e non di contrada cuture a scicli. Il sindaco Enzo Giannone, gli assessori Viviana Pitrolo e Giorgio Vindigni hanno di fatti avuto ieri un incontro all'assessorato regionale territori ed ambiente con l'assessore Maurizio Croce per avere delle delucidazioni sulla procedura con la quale è stata a suo tempo rilasciata l'autorizzazione all'ampliamento della piattaforma, dando conseguenzialità a quanto riportato nella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania sulla revoca dell'autorizzazione. L'amministrazione ciclitana ha formalizzato la richiesta di riesame della procedura notificando un corposo documento in cui si evidenziano lacune, ritenute anche gravi, in seno agli istruttori a tali da inficiare tutta la procedura stessa. Dubbi in tal senso erano stati espressi peraltro pure dalla deputata grillina Vanessa Ferreri nell'ambito del Consiglio Comunale Aperto sulla vicenda. Con questo atto l'amministrazione comunale si fa interprete rappresentante ancora una volta della volontà civica espressa in vari momenti ed in ultimo proprio durante il già citato Consiglio Comunale Aperto del 30 gennaio scorso. L'intera comunità resta di fatti contrari all'attivazione dell'impianto che secondo questa visione avrebbe inevitabili ricadute sul territorio assolutamente dissonanti con lo sviluppo naturale del territorio stesso. La Giunta Sciclitana ritiene ci siano tutti gli elementi tecnico-amministrativi per cui l'assessorato regionale, cui compete la decisione in merito, prende atto degli argomenti oggettivi sollevati e assuma le conseguenti determinazioni che, sempre secondo il Sindaco Enzo Giannone, non possono non portare all'annullamento dell'autorizzazione.